I titoli del mondo di K1 e Muay Thai saranno in palio domani sera al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Una nuova edizione di Fight Clubbing, la manifestazione dedicata al pugilato, alla kickboxing, alla Muay Thai e alle arti marziali miste. Tanti gli atleti da tutto il mondo che si sfideranno sul ring o nella gabbia. Il secondo anno sotto pandemia nello specifico perché quest'anno Fight Clubbing compie il decennale ed è l'ottavo anno non consecutivo che siamo qui in città. Nonostante la pandemia, lo scorso anno siamo andati avanti, abbiamo fatto un bellissimo evento a porte chiuse e quest'anno torniamo all'antica. 2019 fu l'ultimo grande evento aperto al pubblico che facciamo al Pala Giovanni Paolo II. Adesso torniamo con un nuovo bagaglio tecnico, un bel upgrade a livello di atleti perché abbiamo dei campioni del mondo provenienti da ogni paese e ci aspettiamo un grandissimo pubblico che è un po' anche il segnale che ci stanno dando le pre-vendite. Quindi ci sono tutti gli elementi per un sold out domani al Pala Giovanni Paolo II. Pescara così si riconferma un punto di riferimento per gli sport da combattimento sempre più compresi e apprezzati dal grande pubblico. Pescara per l'ennesima volta si propone come epicentro di tante discipline e oggi siamo qui a presentare forse il più grande spettacolo di sport da combattimento in Italia. Avremo 28 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e per il secondo anno consecutivo il Giovanni Paolo II ospiterà questo grandissimo evento internazionale.